musica ok ragazzi altro gameplay e altra corsa sto giocando con la qualità del gioco che è diminuita notevolmente cioè ce l'ho tirata giù diciamo perchè ho visto che nel primo episodio causa del lag lag diciamo ho aumentato un po' gli fps che è il framerate e ho diminuito un po' la qualità del gioco sperando che così facendo non vada in contrasto tanto no cioè si perchè una parte del video non me l'ha registrata diciamo una piccola parte non me l'ha registrata bene piano di sotto praticamente questo gameplay uscirà subito dopo l'episodio di prima negli episodi precedenti perchè lo sto registrando di seguito quasi gli episodi precedenti ragazzi spieghiamo un po' meglio la storia e le regole perciò se state vedendo questo gameplay manco vale che vi andate a vedere anche gli altri così non vi riassumo niente diciamo andate a vedere gli altri in ogni caso siamo dei ladri che sono andati qui a rubare ma si ritrovano fantasmi ma cazzo è qui madonna cara uscivo un secondo dopo la prendevo in pieno proprio la incontravo per strada proprio la salutavo anche ok dove sei? è il piano di sopra quindi noi eh ma sta già scendendo ma che cazzo aspettiamo un attimo qua ci vuole un po' di tattica ok ok il piano di sotto quindi noi ci andiamo diretto il piano di sopra dove cazzo sto guardando? a volte il mostro cambierà aria incredibilmente e velocemente quindi noi siamo sicuri che lui c'è sotto e poi ce lo ritroviamo di sopra perchè caglia aria velocemente a volte bene per il fa cazzo 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 via 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 nella safe zone come la chiamo io via madonna io non viverei mai sarà un 500 metri quadri ma io non viverei mai comunque nella casa del genere chissà che magari i sacchetti non siano sacchi aiutano a tenerlo distante chi lo sa un po' di silenzio ragazzi ah guardate che poi io l'ho appena notato ma i sacchetti non sono tutti uguali a volte cambiano carina questo fatto qua cazzo sta salendo sta salendo sta salendo cosa? il piano lì ma che cazzo ho sprecato tutto vabbè proviamo ad entrare nel bagno merda le scale stiamo davanti perché si è tornato giù? ma che roba finiamo di esplorare il piano oddio ok ho preso paura cazzo devo andare merda guarda non si è qui bene è andata l'ho vista l'ho vista via bene 16 16 ok è il piano di sotto oh mio dio forse ce la facciamo nel primo corpo ragazzi così solo stando è il piano di sopra oh mio dio ma mi sto mi sto no 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 stanno troppo bene non posso morire così non morirò così aiuto venga madonna ragazzi proprio guarda il piano di sotto non c'ho gli occhi maledizione giochiamoci in bagno non si trova mai un cazzo non voglio più giocare a questo gioco è andata a destra se il cuffino mi ingannano quindi se l'ha scesa qua ci sono andato ok dai sempre di pochissimo ragazzi sempre di pochissimo questo qui sarebbe più che altro un episodio come dire un episodio ah si dai io ho una safe combination voglio vedere una roba no ma no ma come ma io l'ho vista no ok proviamo in modalità casual casuale guarda ma è casual nel senso che tu dice sei un giocatore casual oppure casual nel senso che magari mi trovo la hard vabbè proviamo casual ah solo 12 solo 12 ok ok vabbè allora ce la faccio senza problemi ragazzi cioè cioè arrivo a metà soltanto da questo tra l'altro sbrilluccicano le sacchetti sentite qualcosa di vibrare il mio telefono ragazzi bene siamo già un terzo forse la matematica non è un'opinione cosa che per me è ah sono anche più facili da vedere così ma dai avete capito sbrilluccicano già perché sono più facili da vedere ok eh no mi si sa che ce la ritroviamo in questo piano qua ah se io salgo sopra questa roba guardate come vibro anch'io vibro anch'io ma si dai giochiamocela piano di sopra random ne vedo due di lì me ne vado per di qui via 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 8 bastano 3 9 10 11 se ce n'è uno nell'altra stanza possiamo già tornare il piano di sotto no ce la faccio in questa modalità qui ce la faccio e come ok bene più anche uno più uno guardate cosa sono buono morire alla fine io no ma dai come non mi ha preso oh oh mio dio che culo io sono andato qua per cercare un un foglio cioè un occhio ma non li vedo cazzo non li vedo non ci sono ora va ranno al piano di sotto no eh ma sei troia sei troia sei troia sei troia diciamola assieme a casa sei troia madonna basta non è con il sacchetto sul serio ma l'affanculo tira matta madonna sembra che lo faccia apposta è maledetto basta ora vado al piano di sotto che ci dovrebbe essere di più ed è anche più veloce no questo gameplay qua lo finisco proprio bene ok bene bene siamo a metà è il piano di sotto ma ora Saren sono sicuro no anzi no ma si proviamo no dai è infatti era il piano di sopra quello quindi noi andiamo direttamente è il piano di sotto no 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 c'è le costole niente no piglia sacchetti della monnezza 8 la fanculo di là è chiuso o la chiave forse 11 11 cavolo come sempre me la trovo qui sulle scale sono sicuro beh ma dai scampera lì davanti per non farmi vincere cioè lo fa apposta ci rendiamo conto lo fa apposta basta ragazzi lusca ma altrimenti no ma neanche caso le riesco a comprare vabbè dai ma ma questa qui la fa apposta cioè dai cioè ingiustizia bella e buona pure è geniale dov'è è il piano di sopra si noi andiamo per ultimo con lì là così ce li facciamo con calma geniale geniale ok bene piglia tutto cavolo era meglio andare al piano di sopra quasi quasi ma si lei era al piano di sopra quindi noi dovremmo evitarla quindi mi ha fatto bene a scendere è troppo bello se no eh qui ce n'è sempre uno nel tubo 6 7 8 9 chazzo chazzo via 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 più veloci della luce via corri baldracca ci sta inseguendo via no 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 avete visto che roba ci vuole tagliare no no oh si 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 dai 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 cazzo dai nicchia oh mio dio dovremmo farcelo ci dovrebbero bastare due li troviamo di sicuro dov'è il piano di sopra bella che è il piano di sopra o se muoio ora ragazzi voi sentite partire cose che non avrete mai sentito dovrete dappare le orecchie grazie di niente uno ok è il piano di sopra non fa in tempo a scendere che scappiamo scappiamo ora scappiamo scappiamo dove devo andare scappiamo ora 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 me la trovo davanti le bestemmie via oh ciao congratulazioni ben fatto perché non hai risposto alle mie chiamate non voglio parlare scusami non voglio parlare scusa scusa cosa mi sento come se c'era qualcosa in questa casa no c'era qualcosa era venuto per me posso sentirlo qui disconnesso cioè cioè o ci ha preso per uno stramboide ha riattaccato oppure ci ha mandato lì dentro perché sapeva che saremmo morti ma così facendo non avrebbe vabbè non ha importanza ragazzi perché siamo stati mandati anche da quello che ho capito all'inizio della trama sono riuscito a completare le modalità che modalità era questa cazzeggi modalità facile diciamo ora voglio completarlo in modalità difficile non normale scusate ma più avanti magari compagnia di Chris perché madonna cara la paranoia me lo sogno stanotte ciao a tutti ragazzi ci vediamo